La scorsa estate è stata come un sogno. È stata diversa da tutte le altre. Voglio ricordarmi di tutto. Non sai mai quando è l'ultima volta che vedrai un luogo. Una persona. Sapevo che avrei perso Susanna alla fine. Ma non che avrei finito per perdere tutti loro. Dovrei festeggiare con Conrad e Jeremiah, ma neanche rispondono ai messaggi perché tu hai incasinato tutto. Ciao, Jeremiah, sono con te. Conrad è sparito. Vedo se riesco a rinfacciarlo. Ma io vengo con te. Belli eri la mia migliore amica. Ci siamo baciati e poi tu hai baciato mio fratello e vi aspettavate che mi sarebbe andato bene. Ma non era così. Mi dispiace. Il mio unico pensiero è stato essere presente per Conrad. E avrei dovuto esserci anche per te. Ger, hanno messo in vendita la casa. Che vuol dire che la casa è in vendita? Che ci fa lei qui? Susanna adorava questa casa e a loro manca disperatamente la madre e queste due cose sono strettamente legate. Spero tu prendi in considerazione l'idea di non vendere. Scusate, ma ho scelto di metterla sul mercato. Pensavo che perdendo Susanna avremmo perso la magia di Casins per sempre. Ma forse c'è un modo per far rivivere quella magia. Sono contento che tu e Belli andiate d'accordo. So che le mancavi come amico. È come se ci stessimo allontanando tutti e questo luogo è l'unica cosa che ci tiene insieme. Non mi arrendo. Ci inventeremo qualcosa. Insieme. Io ci sto. Anch'io. Sono così emozionato. Sei così sbignalato. Belli, io non riuscirò mai a superarla. Non c'è niente tra me e Conrad. Ci sarà sempre qualcosa tra te e Conrad. Quando immaginavo il mio per sempre era sempre con lo stesso ragazzo. Il futuro è incerto ma ancora mi appartiene.